Ciao ragazzi, volevo farvi vedere che mi è arrivata le varie cose che avevo ordinato su smokeguru.gr, qui abbiamo una wick, non so quanti metri, se uno, due, tre, non so, cinque, che ne so, da uno e mezzo, più sopra abbiamo meno wick, c'erano due, tre metri da tre e mezzo e un altro paio di metri da due millimetri, quindi tre e mezzo, due millimetri e uno e mezzo. Poi ho preso del filo resistivo da 0,20 e del non resistivo, dei pezzetti di non resistivo e poi ho preso delle boccette vuote, delle siringhe, delle pipette, un miscelatore, altra boccetta vuota, un alio da 30, una boccetta di alio da 30, milt, non so che, e delle resistenze pronte, due di ogni tipo, da 1 e 2, da 1 e 5 e da 1 e 7. Bene, questo è tutto, ciao ragazzi e alla prossima!